Bene, nel video di oggi parleremo di un argomento davvero mo... Avete vista? Sì, era una 3060 Ti che passava e non si fermava. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e prima di cominciare col video di oggi vi ricordo che questo video, come il precedente e come i futuri, sono sponsorizzati da me. Infatti, se volete dare una mano al canale e a crescere, giù in descrizione trovate tutti i link di riferimento, il link del canale Viola, link affiliati vari, link dei social, beh, c'è tutto quello che vi serve per darmi una mano a far crescere il canale. Ma, back to the topic. Come ho detto all'inizio del video, il lancio dell'RTX 3060 Ti del 2 dicembre, quindi di ieri, è stato effettivamente molto, 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 molto effimero. Infatti, è stato online pochi minuti, dopo questi pochi minuti di compravendita sul sito Nvidia e sul sito di altri ripenditori, è stata subito rimessa in circolo sul web a prezzi esorbitanti, beh, più o meno va peggio di una 3070, va più o meno come una 2080 Super della scorsa generazione, e se fosse stata venduta davvero a 430 euro, sarebbe stato effettivamente un bell'affare. Ma, quello di cui parliamo oggi è una cosa per la quale io mi sono leggerissimamente adirato qualche tempo fa. Perché, vi ricordate che si diceva che ci sarebbe stata una 3060 Ti con 8 GB di RAM e una 3060 con 16 GB di RAM? L'ho detto in qualche video fa. Beh, questa cosa è stata smentita qualche tempo fa da Gigabyte. Infatti, se andiamo a vedere Videocards, io vi ricordo perché prendo sempre come riferimento Videocards, perché è uno dei migliori leakers per quanto riguarda le schede grafiche che ci sono sul pianeta. Vediamo lo SKU, o la SKU di Gigabyte, delle prossime uscite per quanto riguarda le schede grafiche. Infatti, abbiamo qui una 3060 Eagle con 8 GB di memoria grafica GDDR6 normale. Se poi andiamo a vedere, poi qui una tabella riassuntiva molto molto semplice, vediamo che c'è anche una 3070 Ti Super, non sappiamo ancora come sarà chiamata, con 16 GB di RAM e ce l'abbiamo qui, praticamente, 16 e 16. Queste qui sono le 3070 particolari, diciamo, quelle che ci hanno creduto un po' di più. E qui abbiamo anche una 3080 da 20 GB. Non sappiamo ancora se sarà chiamata 3080 Ti. Abbiamo il riscontro, qui c'è una Turbo, poi c'è la Horus Gaming Master e la Gaming OC. Non abbiamo ancora effettivamente un riscontro della nomenclatura, non sappiamo se si chiamerà Super, non sappiamo se si chiamerà Ti, ma sappiamo soltanto che ci saranno. Qui sotto c'è un'altra tabella riassuntiva che vi fa vedere tutti quanti i numeri, tutti i chip, oltretutto di riferimento delle schede grafiche. E beh, che cosa dire? Io penso semplicemente, o meglio, confermo ancora una volta, che quest'anno Nvidia non ci sta capendo nulla. Oltretutto, se uniamo questi dati al fatto che qualche giorno fa è uscita questa notizia che sono stati venduti 175 milioni di dollari di schede grafiche RTX 3000 ai Miners per permettere Nvidia di avere un introito molto veloce dalla vendita di queste schede grafiche, io non lo so che cavolo stia succedendo, davvero. Perché questo, secondo me, non è il modo in cui un'azienda si fa ai clienti. Perché, ragazzi, come ho detto, io ho acquistato una 3080 il 20 settembre, siamo al 3 dicembre. Io non ho ancora la mia scheda grafica tra le mani. E lo so, non è colpa del rivenditore, in questo caso Drago.it. È colpa proprio del fatto che Nvidia non stia producendo i chip. E, alla luce di ciò, volevo fare un annuncio. L'8 dicembre, beh, sarà presentata la RX 6900 XT. E, dai dati che abbiamo raccolto, e ho sbagliato pagina, la pagina è questa qui, vediamo che la 6900 XT, che già di per sé dovrebbe essere una scheda molto, cioè molto più potente, semplicemente più potente della 3080, potrebbe raggiungere i 3 GHz di frequenza. Raga, 3 GHz di frequenza. Beh, sono dei numeri davvero impressionanti e oltretutto veritieri, contando che la 6800 XT dovrebbe raggiungere la frequenza massima da software di 2.8 GHz. Ok? Sappiamo che, tranquillamente, può essere spinta ad aria a più o meno 2.675 GHz, che è un risultato effettivamente molto, molto, molto impressionante. Se poi vengono messi, vengono applicati dei custom BIOS, questo limite, praticamente, può anche essere distrutto, però a vostro rischio e pericolo. Perché, appunto, un sistema di dissipazione a triventola, non so quanto possa dissipare bene il calore di una frequenza, ecco, pari a 3 GHz, ma vedendo effettivamente i grandi risultati che sono stati apportati da MDI, potrebbe riuscirci tranquillamente. Ad ogni modo, pensate semplicemente che la 6900 XT, che sarà la top di gamma annunciata, almeno fino ad ora, da MDI, per quanto riguarda le nuove RX 6000, dovrebbe essere alla pari con la 3090, ok? Al prezzo di 999 dollari. Io, la mia RTX 3080 ROG Strix, ossì, da un rivenditore italiano, la pago 1050 euro. Sapete che c'è? Se io, l'8 dicembre, riesco a prendere la RX 6900 XT e vedo che, diciamo, incontra le mie esigenze, per quanto riguarda le performance, io non sono tanto interessato al ray tracing, perché sì, sono un giocatore, ma utilizzerei la scheda anche per content creation, streaming, eccetera, eccetera, beh, io credo proprio che annullerò il mio ordine della 3080, perché, va bene, voglio capire che ci siano ritardi nelle produzioni, ma non è possibile che una casa di produzione continui ad annunciare, a confermare, a far uscire nuovi modelli di schede grafiche, senza però andare a tappare i buchi che hai lasciato dietro nei modelli di fascia più alta, sa cosa mi sta facendo decisamente girare le scatole. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, ragazzi, io vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G, e che dire, grazie mille per aver seguito il video, ci vediamo alla prossima, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G, e magari con una 6900 XT fra le mani. Ciao!